ASD Forti e Liberi Monza 1878 salderà il suo debito con il Comune di Monza, raggiunto un accordo per il pagamento della somma che la società deve ancora corrispondere all'amministrazione per l'uso dell'impianto sportivo Forti e Liberi di proprietà comunale, dato in concessione nel 2018. Il debito, pari a oltre 250.000 euro, sarà pagato in conto opere. Il programma la sostituzione degli infissi, dei serramenti e delle vetrate per l'adeguamento normativo della struttura, anche in chiave di efficientamento energetico. I lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 luglio 2024. Oltre alle opere programmate, la sistemazione degli spogliatori e dei servizi igienici, sono necessari altri lavori di adeguamento e verifiche tecniche per garantire la messa a norma dell'impianto. Questi ultimi saranno effettuati dal Comune. Si tratta di un impianto sportivo molto importante per la città, ricorda l'assessore allo sport Viviana Guidetti, legato alla storia di Monza e ai risultati di eccellenza dello sport monzese e quindi di vitale importanza che torni a essere uno dei simboli dello sport cittadino. Questo sarà possibile grazie alla firma dell'accordo che prevede impegni strategici da parte dell'associazione sportiva e dell'amministrazione comunale per riqualificare la struttura. Già nel mese di agosto il Comune ha consegnato all'impresa giudicataria l'area di cantiere per l'allestimento del ponteggio per i lavori sulla copertura. Sarà garantito l'avvio delle attività sportive e di quelle scolastiche nell'impianto compatibilmente con i lavori previsti. Sono state inoltre individuate soluzioni temporanee presso palestre scolastiche per permettere la prosecuzione di tutte le attività sportive, allenamenti e partite di campionato dell'associazione.